allora buonasera a tutti e buon sabato e buon weekend a tutti breve e penso succinta recensione che mi è stato di cui mi è stato dato spunto da un mio seguace follower molto affezionato che mi ha riportato ieri alla mente una scena che era abbastanza all'avanguardia a metà anni 90 inizio proprio 2000 ma già nel 2002 2003 era ovviamente già scomparsa che era denominata now wave da now wave era praticamente una forma avanzata e riformulata della no wave di new york quindi se avete presente la compilation o la storica del 78 prodotta da brianino no new york con gruppi come contorsion mars teenage jesus and the jerks dna di arton easday avrete quindi presente più o meno di che si tratta da now wave era praticamente una corrente che pur prendendo alcuni cifre stilistiche della new wave li rigettava perché in un certo senso diciamo rifiutavano la deriva più commerciale da new wave e fecero questa no wave che era una risposta alla new wave però in chiave più sperimentale ed era presente caratterizzata da scordature metalliche dissonanze chitarristiche ritmi che anche funk derivanti anche da esperimenti anni settanta di fancadeliche parliament e anche james brown soprattutto infatti contorciano se sarà anche una cover di james brown e anche unitamente a del free jazz adesso io non so se qual caso in futuro diciamo nei prossimi giorni parlerò perché io ho anche intenzione di parlare un po di free jazz ma forse pretendo troppo poi alla fine già faccio dei solido qui solido qui nel deserto col free jazz credo proprio veramente posso anche spegnere il videotelefono e tutto quanto perché c'è parlerei praticamente da solo come un matto vabbè ma comunque basta anche che uno sta a sentire ma io sono sono contento allora ho preso come esempio della skin graft e dei vari gruppi questa compilation uscita nel 99 che ormai fuori catalogo camp skin graft che praticamente raccoglie tutti ma proprio tutti i gruppi della skin graft più altri affigliati alla skin graft che la skin graft era l'etichetta presente che lanciò su scala internazionale la now wave e i gruppi principi erano gli us maple e i flying lutenbeckers erano tutti più o meno nell'area di chicago perché l'etichetta era di chicago quindi erano tutti più o meno di quell'area lì anche vicino a certe cose avanguardistiche della atavistic allora io mi ricordo era una sera di novembre ottobre novembre del 99 un meraviglioso concerto a tema su tutti i gruppi della skin graft cioè tutti i migliori ma tutti no erano quattro gruppi praticamente il bra al brancaleone che era praticamente forse l'amico frank trip sa dove si trova che lui è di roma e a piazza vicino piazza conca vicino conca d'oro piazza sempione era da quelle parti lì però più verso la parte del prato lì dove ci stanno praticamente dopo il cavalcavia della sopraelevata sulla destra insomma frank trip penso abbia capito il posto perché lui penso mi pare che va a scuola da quelle parti ecco quindi era una bella camminata da casa mia si facevano partivamo con degli amici in macchina si andava su si facciano questi dieci chilometri e si era questo brancaleone che era un centro sociale autogestito ormai chiuso credo già nel 2006 2007 già credo che era agli sgoccioli con l'entrata sottoscrizione di all'epoca 12 mila lire quindi 6 euro di oggi io mi vedi dalle 10 di sera alle 4 di mattina praticamente finì tutte le quattro di mattina dei concerti praticamente ininterrotti di fly lutenbergers us maple melt banana quintron e l'addio boloco certo quelli sono tempi ormai andati un po per tutti perché roma ormai qui i concerti a down ground si fanno solamente al pigneto in due piccoli locali diciamo che non sono centri sociali ma comunque sempre alternativi ovvero il fan fulla e il dal verme per colmai diciamo che la scena underground romana quella culturale alternativa dai centri sociali si è un po spostata anche sia da anche una volta era san lorenzo adesso si è spostata al pigneto che è diventato un po il quartiere bohemian per così dire di roma un po degradato ma comunque mai quanto san lorenzo e comunque è sempre piacere andare là perché comunque c'è sempre gente interessante anche con cui prendono una semplice birra insomma perché alla fine i prezzi sono comunque popolari anche se sta diventando una zona un po doppia faccia perché premette da una parte diciamo alternativa anarcho comunista e dall'altra è anche molto fighetta perché combinano queste due facce della stessa medaglia lì al pigneto c'è c'è il fighetto hipster come si chiamava qualche tempo fa ancora se non so se poi abbiamo da questo questo termine che premette diciamo è liceale o l'universitario un po radical chic finto sinistra con barbettina però vestito tutto a puntino con abiti firmati insomma è ci stanno quelli e poi ci stanno proprio i propri veri anarcho e quindi insomma con abbigliamento streetwear però non non certo di ultimo grido ecco vabbè chiusa questa parentesi sociologica e di sociologia spicciola andiamo un po al contenuto allora questa compilation qui che è venduta a prezzo economico di 10.000 lire ovvero 5 euro contiene praticamente una 20 o 25 pezzi adesso non mi ricordo di tutti questi gruppi qui principali tra cui anche gruppi collaterali molto della scena anche noise giapponese tra cui le mel banana e jonah kit c'erano anche zenigeva ecco e c'erano insomma un bel frullato variegato c'è quintron che faceva una specie di fatevi conto un blues delle paludi con organo distorto oltre che ne so avete presente un po il blues delle origini però con un ritmo in blues da beatbox unita a una tastiera stonata e lui che cantava un po come un ossesso diavoletto insomma per dare l'idea era uno spettacolo soprattutto da vedere oltre che musicale ma era molto era un happening e non happening questi veri e propri multimediali diciamo e poi c'erano tutti i fly lutenbackers che erano quelli proprio più attaccati alla scena proprio no wave e loro praticamente c'era il batterista che era un pazzo furioso walter weasel o weasel walter perché a volte cambiava scambiava il nome col cognome che era innamorato del death metal del black metal però non sapeva assolutamente suonare cioè praticamente lui smanettava sulla batteria sfondandola completamente ma proprio come la potessi suonare anch'io ma era un pazzo furioso e loro gli prendevano i contortions però in versione appunto noiseggiante con anche un po di fraseggi anche death metal dentro quindi c'era c'era anche il sassofono ma era tutto un pastrocchio scioccante a un primo a primo ascolto e poi anche vedete dal vivo erano veramente anche molto divertenti loro erano prodotti prima da stivalvini e poi da gimo rurk siano sempre perché su questa etichetta hanno sempre capitato come produttori di stivalvini e gimo rurk gli altri erano gli west maple che erano forse leggermente più nella norma noise classica forse meno meno avant rispetto ad altri però anche loro adesso io non ho fatto un tempo a riascoltarmi poi loro dischi però mi ricordo che insomma dal violen devono molto e avevano anche un po delle belle età se vogliamo dire avanguardiste sulla musica diciamo contemporanea quindi c'erano anche dei tacet in partitura cos'ho in tacet lo spiego e quando praticamente si smette di suonare si fa silenzio e poi si rivene da suonare alla john cage quindi il silenzio di john cage per intenderci poi le altre erano le mel banana che erano delle ragazze giapponesi molto simpatiche tra l'altro che facevano questo hardcore miniaturizzato bambinesco con voci infantili da che ne so sembravano i pokemon che che suonavano hardcore quindi fatevi conto di death cannes in versione femminile però bambinesca e poi c'erano ancora appunto i brice glaze che erano mi sembra erano praticamente jimmo rurk costiva albini c'erano poi ancora scusa adesso non mi ricordo bene di riguardo allora the browns l'eco dracula che erano appunto anche sulla scena un po metallara io fantastiche che erano ovviamente completamente improvvisati in studio poi c'erano allora ma mio radio colossanite pure erano un po hardcore gli short in cui c'era anche steve rurk i cheer accident i ruins ecco questi ruins giapponesi grandissimi eh che sono stati anche di grande impatto per per gli zoo e ma un shasta che pure non un po diciamo tram fatevi conto gli sdc in chiave noise gli spestro hikings questi grandissimi giapponesi che erano noise questi da avere appunto in brasi bobby conner che era un performer tipo che ne so poteva essere tra un david bowie e lennie bruce per intenderci insomma più visivo che musicale anche se però un disco suo è molto bello e poi altri che praticamente un po minori non mi ricordo tanto bene tipo moi dei haitoba che erano giapponesi non mi ricordo insomma era era un gruppo e poi c'era che erano i quintron appunto che ho già già citato e altri erano un po più gratuiti ma comunque insomma una scena molto fiorente e assai interessante questo se riuscite a trovarlo io ve lo consiglio perché questo qui dentro avete praticamente adesso non so a che prezzo è arrivato ma non credo che costi tanto certo è fuori catalogo da un pezzo però qua questo è praticamente un bignamino della now wave ecco poi chiudo parlando invece di uno dei primi dischi della trans syndicate di king coffee dei battle surfers che pistol swing degli john boy uscito nel 92 mi pare nel 92 per la trans syndicate e loro erano un trio texano che riprendeva un po spunto dal steve albini big black rapeman soprattutto e jesus lizard in questo noise un po molto massimalista claustrofobico molto potente molto accattivante ma anche se non è un po' di più